Ieri abbiamo pubblicato la prima parte, la primissima, proprio un antipastino di tutta quella che sarà la documentazione che pubblicheremo relativa ai rapporti tra l'Associazione Produttori Caravane Camper e Fiere di Parma per il Salone del Camper. Oggi occorre fare due precisazioni, ovvero oggi occorre rispondere a domande dei lettori di Newscamp su questi argomenti. Allora, la prima è molto semplice, arriva da un addetto ai lavori che banalmente scrive io non capisco perché pubblicare queste cose. Allora, fermiamoci la prima parte, io non capisco. Chiunque può dirne questa frase, ma se si ha un incarico lavorativo all'interno dell'Associazione Produttori Caravane Camper o all'interno di una delle aziende ad essa collegata, all'interno di Fiera di Parma o comunque si occupa un posto in cui si ha a che fare col Salone del Camper, questa frase indica solo una cosa, cioè che c'è qualcosa sotto che pulsa. Perché? Le persone non vengono pagate per non capire, ma per osservare, analizzare e fornire risposte. Nel momento in cui uno dice io non capisco e magari è un funzionario, magari è un amministratore delegato, un direttore generale, qualcosa del genere. Beh, non la dico io, scusate. Ve lo dice Steve Jobs, il quale nei contratti di tutti i suoi funzionari, impiegati, quadri, manager e dirigenti, faceva inserire i licenziamenti in tronco per chi usava quella frase. Io, umilmente, non possiamo far altro che credere. Seconda domanda che arriva da un lettore, è una domanda molto intelligente perché lui dice sì, vabbè, ma in fondo avevamo questa persona che veniva pagata un po' dall'APC e un po' da Fiera di Parma. No, è una persona, Gianni Brogini, che ufficialmente doveva ricevere una quota, così dicono le carte almeno che abbiamo in mano, da APC e una quota da Fiera di Parma. Ma proprio quelle carte dicono che poi Fiera di Parma, quella quota lì, la metteva nei conti in comune. Quindi, sostanzialmente, la faceva pagare, no, pagava lei, la faceva pagare sempre all'APC. Cioè, capito? È quello il discorso. È quello il punto. Il punto è che, alla fine, chi è che paga? Pagava sempre lo stesso, tutto qua. Ed è per quello che era stato detto non controllate quella parte dei conti, perché se no salterà fuori quella cosa. Ma comunque non preoccupatevi perché di cose ne salteranno fuori e anche di peggio.